La dottoressa Laura Mazzilli Io sono coatta Vanessa Carina sta gollanina Che è cinese? Ma che è cinese? Mi l'ha regalata mia madre Davvero? Corella Perché purella? No caruccia dico Senti te vedo triste Non arrivatevi meglio Morta Ciacci Tu vado a tornare indietro Sì sei l'amo Come sono vestita Eppure vestiti Ma non presto Le volevo suggerire Una raccomandazione Di una ragazza Anche stavolta Sceglieremo la candidata giusta Tutto bene frustino mio Ho appena ottenuto il posto Micina micina Io sono il tuo micione Dopo tre anni di specializzazione 800 euro al mese 800 euro al mese? 800? Ma io che guadagno in dieci minuti 800 euro? Ma che stavo a pettinare bambole? Ambrogio Mi devo comprare un callifugo Mi può aprire per favore Che mi dà un po' fastidio il fumo Ma quanto sei delicata Perché la vita È un mozzico E forse è un po' fastidio il fumo Che mi dà un po' fastidio il fumo Che mi dà un po' fastidio il fumo Ma che non con gli bisogni Che mi dà un po' fastidio il fumo